Buongiorno, bentrovati, buon Sant'Ambrogio. Oggi, giovedì 7 dicembre, la nostra chiesa ambrosiana festeggia il suo massimo patrono, Ambrogio appunto, nel giorno della sua ordinazione episcopale. Tutti conosciamo bene la storia di Sant'Ambrogio, sappiamo che era di famiglia cristiana, che nacque a Treveri, padre era un importantissimo funzionario imperiale, prefetto del pretorio, il secondo dopo l'imperatore. Morì quando Ambrogio era ancora piccolino, forse per cause non naturali, legate alle lotte politiche che in quel tempo travagliavano l'impero. Ambrogio crebbe a Roma con la famiglia, dove la sua sorella si consacrò poi al Signore. Ambrogio però non fu battezzato, perché come il fratello Satiro era destinato a fare carriera politica e i cristiani battezzati non potevano fare compromessi con l'idolatria. Per questo Ambrogio fece studi letterari molto approfonditi e giunse anche egli ad essere prefetto della Liguria e della Lombardia e proprio come prefetto venne chiamato a intervenire quando i cristiani dopo la morte del vescovo Ariano Ausenzio litigavano duramente per scegliere il successore del vescovo Ausenzio. E si racconta che appunto in quel consesso, in quella basilica, Ambrogio parlò così bene del bene comune della pace che a un certo punto un bambino esclamò Ambrogio vescovo e tutta l'assemblea concorde acclamò Ambrogio vescovo. Ambrogio non voleva, cercò di opporsi. Venne chiesto anche il parere dell'imperatore che fu contento che diventasse vescovo della capitale imperiale, l'antica Mediolanum infatti era in quel tempo capitale dell'impero, un magistrato da lui scelto. Ambrogio quindi al 30 novembre venne battezzato e al 7 dicembre del 374 o forse 373 venne consacrato vescovo. Da allora dedicò tutta la sua vita al Signore Gesù, donò gli ingenti beni che erano della sua famiglia alla chiesa di Milano e consacrò tutta la sua esistenza a Cristo Dio, vero Dio come il Padre. Fu duramente avverso all'arianesimo e ricondosse molti eretici alla vera fede. Con la sua parola illuminata condusse moltissimi pagani alla fede cattolica. Tra i tanti che illuminò ci fu anche Sant'Agostino che a Milano venne battezzato. Il suo insegnamento costante della verità fu luce per tutto il popolo romano e diventò un'attrazione straordinaria per la chiesa di Milano che da allora si riconobbe di Ambrogio, Ambrosiana. Morì il Sabato Santo nel 397, il 4 aprile, lasciando una impronta di santità straordinaria nella nostra chiesa. Ascoltiamo il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse, io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce le disperde perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono a me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre ed ho la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo greggio e un solo pastore. Parola del Signore. Sant'Ambrogio, il nostro massimo patrono, fu veramente immagine di Cristo buon pastore. Come Gesù ha dato la vita, così Ambrogio diede la vita per le pecore, per il greggio a lui affidato. Dedicò tutta la sua esistenza per guidare alla vera fede, all'amore per il Signore Gesù e per la Santa Chiesa, il popolo a lui affidato. Preghiamo per la nostra Chiesa Ambrosiana, preghiamo perché vi siano ancora pastori, perché i giovani riscoprano il dono della fede, perché quelli che sono chiamati a consacrarsi a Dio lo facciano senza timore, perché quelli che sono chiamati al sacerdozio si consacrino con gioia e donino la vita come Gesù, come Ambrogio, diventando buoni pastori secondo il cuore di Dio. Preghiamo per quanti già sono consacrati, perché siano fedeli al dono ricevuto e donino la vita con gioia. Preghiamo per le famiglie cristiane, perché seguendo gli insegnamenti di Sant'Ambrogio siano solide nella fede, abbondanti nella preghiera, generosi nella carità, fedeli nell'amore. Preghiamo perché la fede diventi, come fu ai tempi di Ambrogio, il cuore pulsante di una società che si riconosce capaci di unità perché è amata da Dio. Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per la pace. Sant'Ambrogio prega per noi, sia lodato Gesù Cristo.